Oggi, primo giorno di fotochina, abbiamo in mano le novità Olympus. Olympus propone una supertele 40-150 mm per il proprio sistema micro 4 terzi. È un obiettivo che corrisponde a 80-300 mm, ha apertura f2.8 a tutte le focali, quindi un'apertura costante. È un obiettivo che propone una progettazione tipicamente professionale, infatti fa parte della linea Pro come lo zoom 12-40 già esistente. Il 40-150 mm ha una costruzione a prova di polvere, acqua e freddo, è resistente fino a meno di 10 gradi ed ha anche uno schema ottico che propone l'utilizzo di lenti asferiche e a bassissima dispersione per evitare ogni tipo di distorsione e aberrazione. Lo vediamo montato sulla nuova M1 Silver. La M1 Silver è sostanzialmente uguale all'M1 che conosciamo già, ma la novità vera di questo lancio è il firmware, il firmware 2.0 che potenzia ulteriormente la macchina, trasforma la macchina in pratica in una fotocamera ancora maggiore per quanto riguarda la gamma. Questo firmware che viene implementato nella M1 Silver sarà disponibile dal 16 settembre per tutti coloro che hanno già in mano la M1. Che cosa offre questo firmware? Offre diverse caratteristiche nuove, in primis la possibilità di collegare la fotocamera tramite USB al computer, una caratteristica tipicamente professionale che consente al professionista di gestire da computer le funzionalità della macchina. Altre caratteristiche nuove introdotte con questo firmware sono la correzione delle linee cadenti, una cosa tipica della fotografia di architettura. Questo firmware corregge automaticamente le linee in modo da non dover poi intervenire in post produzione. Altre novità sono la funzione Live Composite per foto in sequenza, nuove funzionalità Wi-Fi, due nuovi art filter, il colore parziale e il vintage. Come vediamo quindi sono caratteristiche molto importanti e che fanno la differenza. In pratica chi ha già una M1 grazie al firmware si trova una macchina che è di livello ancora maggiore rispetto a quella che aveva acquistato ed è un firmware che può tranquillamente scaricare da domani.